l'orchestra è unione accordi melodia essere umano società necessario per riattivare poi il suono mindfulness tamponi apnea mai piaciuto chi vince ogni tanto ci starebbe mi rispecchio nei loser è importante perdere mamma carbonella che arroste la carne davanti la porta il più grande presentatore della storia della televisione italiana un orso bianco